Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo a leggere e commentare il diario di Ugo Cavallero. Siamo arrivati al 12 luglio, l'11 non pervenuto, immagino che non abbia scritto nulla o comunque non vi è nessun riferimento a quella giornata, quindi passiamo automaticamente al 12 luglio 1942. Abbiamo lasciato la situazione in Nord Africa apparentemente favorevole, l'ottimismo è il sale della vita che siamo arrivati dalla Main con una situazione favorevole, ottimistica, cosa che ha portato anche la doppia promozione a Maresciallo d'Italia, sia di Cavallero sia di Bastico, per non trovarsi da meno rispetto alla precedente nomina a Feldmaresciallo di Rommel e quindi con un quadro anche appagante sotto l'aspetto delle rispettive carriere. Però come sappiamo c'è sempre una situazione abbastanza difficile, soprattutto sotto l'aspetto logistico, la possibilità di arrivare a un successo concreto, un successo che possa soddisfare tutti, ovviamente sono delle ambizioni molto alte, soprattutto da parte di Mussolini che già paventa un'occupazione, un'annessione, un protettorato dell'Egitto e così da avere anche una possibilità, un'eventualità di poter continuare la guerra anche verso l'Africa orientale che è stata persa, ma questo ovviamente secondo i disegni dell'asse avrebbe portato la Gran Bretagna ad arrendersi, ho ottenuto, diciamo, avendo essa perso Suez, anche la situazione in Estremo Oriente non è delle migliori, il discorso di Singapore, quindi diciamo, sono una serie di avvenimenti, diciamo che l'estate del 1942 è il periodo più rosio per l'asse, anzi per il tripartito, è il periodo diciamo più basso possibile per quanto riguarda gli alleati, salvo Midway, Midway che appunto è stato poche settimane prima che ha offerto un ribaltamento o quantomeno il giro di Boa ma ancora non è percepibile tanto da poter dire che, come avrebbe detto Churchill, è l'inizio della fine delle sfortune degli alleati, ma andiamo a leggere quello che scrive Cavallero 12 luglio, ordino che sia effettuato subito a mezzo di aerei con precedenza assoluta il trasferimento di un gruppo paracadutisti su quattro battaglioni in Libia requisizione di un certo numero di automezzi, quindi si prefigura appunto l'utilizzo di quei paracadutisti che erano stati addestrati per andare a attaccare Malta, Malta non si fa più e quindi si vogliono utilizzare in altro modo. Generale Girola fa presente che il carbone manca non solo per la siderurgia ma anche per gli altri lavori e per giunta quello che arriva è scadente e dà il 20% di calorie. Generale Rossi fa presente che per la Tunisia occorrerebbero 2-3 autoraggruppamenti, ogni autoraggruppamento sono 800 autocarri, quindi almeno 1.600-2.400. Bisogna, che ovviamente non ci sono, ma non ci sono anche perché quello che si aveva è stato mandato in Russia per il raddoppio, c'è un aumento anche superiore del raddoppio dal XIR all'ARMIR. Bisogna allestire anche le parti di ricambio. Giai Girola propone il ricupero con riutilizzo in posto e calcola di riorganizzare tutto il servizio, quindi una sorta di cannibalizzazione di quello che si può recuperare. Prego Favagrossa di continuare fino a primavera del 43 la superproduzione di automezzi, poiché in tale periodo dovremo dare i mezzi a tre divisioni autotrasportabili, le famose divisioni autotrasportabili. Vi ricordate le famose divisioni autotrasportabili di Pariniana Memoria? Pariani aveva nel 37-38 istituito le divisioni autotrasportabili, nel senso che se hanno i mezzi vanno con i mezzi, se non li hanno vanno a piedi, sono autotrasportate, autotrasportabili il senso che se li hanno. Il carbone è in diminuzione. L'Ilva ha dato 44.000 tonnellate di ghisa il mese scorso, mentre prima ne dava 70.000. Favagrossa afferma che la parte siderurgica è diventata la più grave, mentre per altri settori la situazione è meno preoccupante. Con le campane si è risolto il problema del rame, in senso si sono prese le campane delle chiese per il rame. È un espediente, come i cancelli, una cura del ferro, siamo stati presi la cura del ferro che uno prende per la salute, no, la cura del ferro, tutti i metalli, i cancelli, le pentole, i paioli, c'è stata fatta una raccolta di tutti i metalli possibili, immaginabili per, appunto, avere una serie di materiali da utilizzare a fini bellici. Purtroppo uno può fare dell'ironia su queste cose, ma purtroppo è vero. Insiste perché non gli si facciano più richieste di extra quota e mi promette che farà il possibile per dare altri 3.000 autocarri entro sei mesi. Entro sei mesi, ma servono subito. Gli inglesi hanno effettuato un attacco di caccia torpediniere su Marsa Matruc. È stato danneggiato il Brook ed è stato affondato lo Sturla. 15 luglio. Magli telegrafa che lo schieramento nemico al fronte centrale e meridionale ha il tredicesimo corpo con le divisioni corazzate, prima e settima, e il decimo corpo con la nona divisione australiana e la quinta indiana. L'aviazione nemica ha effettuato attacchi violenti con apparecchi da bombardamento e a bassa quota sulle nostre truppe. Nella scorsa notte il nemico ha attaccato nel settore centrale il fronte della divisione Brescia, riuscendo a sovraffare un caposaldo. Stamane ha avanzato nella breccia in direzione nord-ovest, intervenuta la quindicesima divisione divisione corazzata tedesca. Nel pomeriggio altro attacco verso il fronte della divisione Pavia. Combattimenti in corso fra i caposaldi di quota 40 e quota 71, ove è schierato il terzo gruppo esplorante mentre la quindicesima divisione corazzata esercita forte pressione verso est-nord e nord-est, dopo aver catturato oltre 600 prigionieri. 17 luglio. Interessante che i giorni sono a i disoli dispari. Siamo passati appunto dalla... C'era il 12, poi il 15 e adesso il 17. Vabbè, così. Atterro a Fuca e proseguo in auto per il posto tattico di supercomando. A Eldaba, Kesselring mi riferisce sulla situazione che, dopo l'attacco di stamane, è stata ristabilita. Rommel conta di recidere il saliente per accorciare la linea. Successivamente pensa di ritirare la Pavia, che si è battuta molto bene e spostarla a sud. In conclusione, la manovra iniziata stamattina dal nemico è fallita. In complesso, la nona australiana ha avuto molte perdite e così pure la seconda neozelandese e quindi si prevede per domani una distensione. Colloquio con Rommel. Mi fa presente che pochi giorni fa il nemico era già superiore a noi in carri e infanterie. Ha attaccato e sembra che non intendesse effettuare una grande azione, ma il successo gli è stato facile e allora ha insistito. Le nostre truppe non erano molte, ma già a posto da tempo, con sufficiente schieramento di artiglierie e con rinforzi di pezzi da 88 mm. Ricordiamo, i cannoni da 88 mm erano di produzione tedesca, erano tedeschi, erano fabbricati essenzialmente come arma antiaerea, come artiglieria contraria. Ma Rommel le si può usare molto bene come armi anticarro, quindi ebbero una propria attività polivalente. E protezione di campi minati, però erano lucre e di fronte all'improvviso attacco del nemico hanno avuto un po' di panico. I soldati italiani hanno ripiegato, inseguiti dalla fanteria inglese, su pochi carri. Una parte dei nostri era stata sorpresa nel sonno e non aveva le scarpe. Gli autocarri erano insufficienti per un ripiegamento e quindi una nostra compagnia, che non ha trovato posto su di essi, è stata catturata. L'attacco è stato fermato per merito di un tenente colonnello. Vediamo, là c'è la nota. Vediamo chi è questo valoroso tenente colonnello che nel diario non è indicato il nome. Ecco appunto, non lo sappiamo. Rimane ignoto. Le nostre divisioni corazzate sono ora ridotte a poco più di un battaglione rinforzato. Il resto è liquefatto. La posizione non potrebbe essere per noi più favorevole, ma il nemico non ci lascia il tempo per rafforzarci. A sud finora non ci sono avuti combattimenti seri. Vi è poi stato l'attacco dei neozelandesi sul fronte della Brescia. L'altro ieri siamo riusciti a ristabilire la situazione facendo molti prigionieri, ma non siamo riusciti a liberare del tutto la pavia e la Brescia. Per cui queste divisioni sono ridotte a due o tre battaglioni e un gruppo di artiglieria. Ricordo per tutti coloro che seguono magari da poco il canale che il film era la main. In Deserto di Fuoco, che è appunto di Enzo Monteleone, io ho avuto il piacere anni fa, proprio esattamente cinque anni fa, nel luglio del 19, ebbi modo di intervistare Enzo Monteleone per un articolo, per un lavoro che dovevo fare, tra l'altro che poi è stato pubblicato su quel volumetto, non so se ce l'ho qui, è stato da qualche parte, sulla guerra nel deserto, un libro che ho pubblicato, Albertone e la guerra nel deserto, sono due parti, e questo mi era interessato di come era stata raccontata la guerra nel deserto negli ultimi venti anni circa, giù di lì, e appunto diciamo che nel film El Amain, il Deserto di Fuoco, viene rappresentata appunto la pavia come una divisione che spesso è dimenticata, spesso si parla sempre della folgore, no, anzi, proprio il fatto che Monteleone avesse parlato molto bene esclusivamente della pavia, aveva un po' anche, un po' così, lasciato con la, così, un po' arricciato il naso a quelli della folgore, all'epoca i reduci, ma anche quelli diciamo, l'associazione paragodistica, era stata un po' così, cioè, contrariato, parli di El Amain e non parli della folgore, si parla della pavia, che da quello che leggiamo è stata particolarmente valorosa anch'essa. Ieri abbiamo attaccato per ristabilire la situazione nella zona, ma l'azione è stata dura e non si è riusciti a ripristinare il fronte. Gravi difficoltà si oppongono al ripiegamento delle fanterie. Stamane il nemico ha nuovamente attaccato con due battaglioni australiani rinforzati il fronte della Trento e della Trieste, penetrando profondamente. La Trento e la Trieste avevano una loro anche componente motorizzata, diciamo, prevalentemente motorizzata, diciamo, che avevano la capacità anche di muoversi, però in quelle condizioni, come capite bene. Si è raccolto tutto quello che ancora era disponibile. Per tamponare siamo riusciti. Ora si è rotto il contatto e si ripiega. La nona divisione verrà al nord dello schieramento. A sud si muoverà il ventesimo corpo d'armata. Rommel spera di riuscire a portare nella notte le truppe sulle nuove posizioni. I battaglioni della Sabrata hanno ripiegato sotto il solo tiro delle artigliere nemiche, che è veramente micidiale. Se si avranno altri colpi, come oggi, Rommel non potrà più dominare ancora la situazione. Anche il nemico sta male. Ha avuto gravi perdite e ogni giorno ne ha per l'azione aerea. Vincerà chi sarà più tenace. Occorre affluenza di forze, complementi e reparti, ma non garantisce di poter attendere una settimana. Se non arrivano i rinforzi, dovrà ripiegare. Kesselring fa presente che un ripiegamento metterebbe in crisi l'aviazione. Piuttosto sacrificherà tutte le sue artiglierie e le manderà avanti. Rommel ha i chiarimenti di bastico. Circa l'affluenza dei complementi risponde che gli occorrono anzitutto i pezzi da 88 e poi i battaglioni della Paragatutisti. Chiedo la situazione dei carri e Rommel precisa. Ariete 12, Littorio 16, CTA 30-40. Il corpo tedesco d'Africa, l'Africa Corps. Aggiunge che se il fronte viene sfondato non vi è altra soluzione che il combattimento temporeggiante per ritirarci lentamente. 19 luglio. Giungo al posto di comando Rommel. La situazione si è alquanto distesa. Gli elementi della Pavia e vari altri reparti sono ristabiliti molto bene e nel ripiegamento hanno portato indietro tutte le loro armi. Si è anche riusciti a sostituire la novantesima divisione leggera tedesca con la Trieste. Oggi sono giunti tre gruppi di artiglieria italiana e sono stati schierati sulla destra della Trento, ove il pericolo è maggiore. Raccomando a Rommel di tenere riuniti i battaglioni paracotristi e gli dico che occorre prendere Sivoa al più presto. Rommel sta lavorando per rafforzare il fronte. Vi è molto materiale a Tobruk e Marza Matruk, ma le necessità sono molte. A sera mi rego a conferire col Duce, che è appunto in Libia, appunto, col cavallo bianco, con le cose sue, che vuole rientrare ad Alessandria, che mi consegna le considerazioni da lui redatte sulla situazione militare in Egitto. Ecco, vediamo un po' quali sono queste considerazioni, virgolette. La battaglia di Tobruk è chiusa. Quella di domani sarà la battaglia del Delta. Il tempo per preparare questa battaglia deve essere numerato a settimane, ma non bisogna perdere un minuto o solo di tempo a prepararla in questa gara di velocità oramai impegnata fra il nemico e noi. Prima condizio sine qua nonna per preparare la nuova battaglia è quella di conservare a qualunque costo le attuali basi di partenza. Ogni altra ipotesi deve essere scartata a priori. Per conservare e rafforzare l'attuale schieramento, rendendo sterili più o meno parziali conati i nemici, occorre a creare vaste, profonde fasce di campi minati di fronte ai fianchi delle fanterie, in modo che queste esternamente sacrificate unità non siano alla mercè di improvvisa e in sua irruzione di cari nemici. Punto B. Sapremo come sarà molto importante l'utilizzo dei campi minati da lì fino alla terza battaglia di Alamein di fine ottobre. Punto B. Rendere il più efficiente possibile lo schieramento delle artiglierie, rastrellando in Libia tutto quanto si può togliere senza pericolo e facendo venire dall'Italia il resto. C. Rendere il più efficiente possibile lo schieramento dell'aviazione, la quale deve agire sul terreno strettamente tattico, tormentando implacabilmente uomini e mezzi del nemico. D. Rimettere in pristino le nostre divisioni corazzate, aumentando la quantità dei semoventi, dato che il nostro M14 può ritenersi superato nella lotta già accesa fra corazza e cannone. E. Riordinare le divisioni normali di fanteria, completandole negli effettivi e nei mezzi. F. Fare affluire gradatamente verso lo schieramento le divisioni non ancora impegnate, Bologna, giovani fascisti, e quelle in arrivo o predisposte, Paracauristi, Pistoia, Brennero, avendo cura di non stipare eccessivamente il fronte con unità che non posseggono un minimo di automobilità. G. Togliere non meno gradatamente dai reparti schierati gli uomini logori avvicendabili e la cui ulteriore permanenza costituisce un pericolo. Quindi, detto questo, tutto il traffico deve essere concentrato nei porti più vicini allo schieramento, che sono Tobruk, Solum, Marza Matruk. Soprattutto Tobruk. Questo produrrà un alleggerimento per quanto riguarda il chilometraggio camionale, alleggerimento che sarà accentuato dall'esercizio della ferrovia Sidi Rezeg Marza Matruk. Secondo fronte, quindi si passa alla situazione... Ah no, secondo fronte parla del secondo fronte e quello degli alleati. Il secondo fronte viene oramai disperatamente invocato alla Russia e patrocinato dai grandi correnti in Gran Bretagna e in America. Il secondo fronte si farà e avrà due aspetti. Il primo è aereo, ed è già in atto coi bombardamenti massicci delle città tedesche. Colonia, ad esempio, è stata semidistrutta, secondo la testimonianza degli stessi giornali tedeschi. Il secondo fronte si farà nel Medio Oriente, cioè in Egitto, Palestina, Siria, Iraq, cioè in paesi nei quali uomini e mezzi sbarcano senza combattere, in paesi che costituiscono il grande quadrivio dell'impero britannico. Mussolini non ha capito nulla, vabbè. Masse imponenti di uomini e di mezzi saranno concentrate in questa zona con uno scopo strategico, logico e definitivo. Impedire che le forze del tripartito, gravitanti da nord, est, ovest, possano congiungersi. Quindi sostanzialmente dice dal Caucasus, dal Medio Oriente e dall'India. Questo è l'ipotesi, il timore che secondo Mussolini hanno gli alleati. Le avanguardie di queste forze aeree e terrestre sono già in sito e altre vengono annunciate. Sarebbe peccare di imprevidenza, se non si prevedesse senza indugio, a sistemare potentemente a difesa la porta della Cirenaica e soprattutto quella della Tripolitania e a presidiarle l'una e l'altra nella necessaria misura secondo lo sviluppo degli eventi. Sede dei comandi superiori, insisto perché siano avvicinati allo schieramento e ciò soprattutto per ragioni morali. Non come faceva Graziani che stava a centinaia di chilometri dal fronte. Ritengo che la zona di Bardia offra la possibilità di sistemare il comando superasi, comando superiore Africa settentrionale, nei suoi elementi essenziali. Quindi sostanzialmente è bastico. Finisce il vigorettato. Con questa interessante, come la chiama, la considerazione sulla situazione militare del Duce, abbiamo un quadro ancora abbastanza ottimistico, nel senso che l'opinione degli alti vertici militari dell'Asse, specialmente dell'Italia, c'è un margine di manovra, una possibilità che ritengo, nonostante i contrattacchi, le occasioni britanniche che si fanno sentire, con una certa vigore, come è stato accennato, vince solo chi sarà più tenace. Questa è l'opinione di Cavallaro, che probabilmente è corretta. Ma non basta la tenacia. Sappiamo che la tenacia è importante, ma servono anche i mezzi, gli equipaggiamenti, i rifornimenti, truppa fresca soprattutto. E questo è quello che accadrà da lì a poche settimane, con uno sbilanciamento ancora maggiore con la riorganizzazione anche di Montgomery. Ne parleremo, dedicherò una puntata specifica su Montgomery e da qui a fine, al mese di agosto, in cui appunto si potrà anche capire come l'avvento di Montgomery sia un elemento di cesura, ma anche di continuità, all'interno di una realtà britannica particolarmente favorevole, non fosse altro perché hanno le linee di rifornimento corte. Dalla Maine ad Alessandria, al Cairo, a Suez ci sono meno di 100 km, cosa che ovviamente favorisce tutto un discorso di alimentazione, di gestione, di filiera. Ecco perché Mussolini giustamente dice che il comando deve essere avanzato, perché anche sotto l'aspetto morale deve essere rispondente, deve essere appunto adeguato a quello che si va a fare e a decidere. Questo è un elemento che, onor del vero, bisogna riconoscere nella specificità. Poiché i presupposti fossero sbagliati, perché si è arrivati col fiato corto, senza avere nessun tipo di rifornimento adeguato, con l'utilizzo di truppe molto spesso stanche, affaticate, che hanno fatto centinaia, diverse centinaia di chilometri a piedi, con anche un clima particolarmente poco favorevole, con tutta un discorso anche il problema dell'acqua, il fatto dell'acqua che si avessero, utilizzassero per dire le tani che si utilizzavano per la benzina, venivano utilizzate in maniera promiscua anche per l'utilizzo acqua salmastra, con tutta una serie di problematiche. Mi ricordo un bellissimo documentario di Gianni Bisiac sulla batteria da me, in cui faceva un'elencazione delle piaghe che gli italiani avevano in quelle circostanze, non è più peggio dell'altra, e tra queste piaghe c'era anche l'alleato tedesco di cui non bisogna fidarsi, è una cosa importante, i tedeschi non bisogna neanche fidarsi neanche quando sono alleati, sappiamo bene. Detto questo, con questo monito, mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate iscrivere anche qualcuno, vado in vacanza, non prima di vado in vacanza, iscrivetevi sul canale di Giovanni Cecini, che troverai delle cose interessanti sotto l'ombrellone, sotto la roba in vacanza in montagna, da qualche parte lo metti, senti, ascolti, qualcosa imparerai, ecco, sempre tutto fa brodo. Bene, detto con il caldo africano, ha maggior ragione, mi raccomando, mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao.